e oggi vi propongo una cosa che a me fino a quando preparato questo non mi piaceva più mi aveva nauseato che cos'è il salmone ho detto no ci voglio riprovare adesso ne prendo un bel pezzo fresco e lo voglio preparare sfizioso e allora l'ho tagliato attenzione che scappa scappa e è partito il pezzo io l'ho fatto fettine così non troppo fini vedete altezza un dito diciamo nel frattempo ho preparato semi di papavero e semi di sesamo lo volevo rendere croccante e con un gusto particolare perché volevo camuffare un pochino il sapore del salmone beh mi sono ricreduta sì sì devo dire proprio che mi sono ricreduta ho fatto il bis ragazzi non me lo aspettavo quindi ho fatto questa panatura così di papavero e semi di sesamo intanto ho fatto scaldare la piastra perché l'ho messo sulla piastra semplicemente pochi minuti da un lato e dall'altra perché non volevo cuocerlo ma solo scottarlo quindi la piastra ben calda senza niente sotto perché già comunque il salmone già insomma ha i suoi oli e ho messo soltanto un po di sale sopra e giusto un paio di minuti per lato io poi l'ho adagiato su un letto di insalata aceto balsamico ma quello buono però eh ed ecco qua il risultato è venuto buonissimo vi è piaciuta l'idea e allora alla prossima ciao ciao